Buongiorno a tutti, buongiorno Paolo, l'ho visto frizzato, ho visto frizzato Paolo, forse adesso si sblocca, allora innanzitutto benvenuti alla puntata nuova di High Piper Music Talk, io direi che possiamo passare subitissimo Paolo, se sei d'accordo, all'ospite del giorno, che è Roberto Molinaro, che vedo già io in collegamento, eccolo, Roberto ciao, eccoci qua, riusciamo a andare, ok, eccolo qua, come stai? Bene, tu mi senti? Io ti sento, sì sì sì, tu mi senti? Adesso sì, ho fatto tutti i vari collegamenti da Boomer, fantastico, innanzitutto cade subito l'occhio, che bella libreria dietro. Eh, sai, noi vecchi DJ vivevamo di questo, no? Vabbè, anche tu ne hai collezionati. Certo, certo, vabbè, è un po' la nostra storia, dai. Sì, ma ci sono anche tutta questa parete qua e tutta la parete di là, ancora. Che non si vede. Eh beh, ma sai cos'è? Che c'ha proprio il sapore, tra l'altro, di quei negozi strafighi che vanno di moda adesso a Berlino, a Londra, no? Che entri, ci bevi un caffè, un aperitivo e dici, cazzo, quasi quasi, ascolto questo, compro quell'altro. La polvere. Non sai qual è? Diventeremo tutti i musei. Ma quando ti è capitato adesso di prendere i dischi, quando te li metti, sai, come facciamo una volta sulle ginocchia e ne fai scorrere uno a uno, la polvere che inali quando stanno fermi. E io ogni tanto lo faccio, ti dico, con la mascherina già prima del virus. Ma poi, guarda, proprio per chiudere una parentesi di vinili second hands, proprio la settimana scorsa sono andato alla famosa fiera di Sinigallia, che è una fiera che vendono dell'usato, dei vinili di seconda mano tipo Novegro, no? A Milano sui Navigli, molto caratteristica, c'era proprio quello che dicevi tu, cioè la percezione dell'atomo, piuttosto che la tristezza a volte del beat, del digitale, che effettivamente ha una percezione completamente diversa. Senti, innanzitutto, come stai tu fisicamente e tutto, senza andare magari a toccare cose private legate alle pandemie, e poi come stai tu proprio anche a livello di attività e tutto? Ma sai, questi due anni abbiamo dovuto, noi che facciamo sto lavoro, premetto, siamo abituati a avere le crisi, no? Perché comunque se decidi di vivere di musica, decidi di avere crisi perenni. E quindi ad affrontare le problematiche, secondo me, siamo un po' abituati nell'arco degli anni. Questi due anni ci siamo dovuti reinventare e vedere veramente cosa si può fare veramente a livello personale, perché siamo rimasti soli, senza locali, senza, almeno io mi sono trovato senza più niente in due anni, e ho dovuto reinventarmi, prendendo da quello che so fare, cioè le produzioni, e ho concentrato tutto lì, tutto a produrre, con produttori nuovi, ragazzi nuovi, ho ampliato il discorso di lavorare in rete, con streaming, con le chiamate, prima si andava in uno studio, fai questo, fai l'altro, adesso ho imparato a farlo così, e ti dirò, è stato un cambio forzato, sono contento, sono contento, mi hanno fatto un bel team, soprattutto per le produzioni di Gabri, e beh, stiamo andando bene, stiamo andando bene, sono contento a livello produttivo, è solo l'inizio, per carità, però contando il periodo, rispetto al 2019 stiamo andando malissimo, contando il periodo, veramente. Certo. Senti, al di là di quello che poi ha portato la pandemia, nel senso legato a diversificazioni, come quelle che tu hai citato prima, perché uno fa altro e si guarda in giro, perché dice, cosa so fare bene, riesco a farlo, riesco a monetizzare, riesco a farci veramente economia di scala su queste operazioni, cos'è che secondo te è più vicino alle tue, alla tua capacità, alla tua competenza, e soprattutto in questo periodo senti che è emerso anche da tuoi colleghi, cioè che magari vedi che, non so, alcuni hanno aperto attività tipo ristoranti, o chi si è buttato nella ghost production. Cioè, cos'è che vedi di interessante e cosa hai fatto di proprio, di tuo, a livello proprio di nuovi percorsi? Allora, la prima cosa che io ho notato in questo periodo è il cambiamento, io sono produttore, quindi produco musica, e sono un topo da studio, mi piace stare in studio, con l'unica differenza che non suonare mi ha cambiato la produzione, perché ciò che facevo prima era dedicato al club e poi poteva diventare pop, quindi partivo sempre da una base che potessi suonare nei locali. Adesso parto da una canzone, perché il mercato club è comunque, diciamo in stand-by, anche con, cioè non si può capire realmente la reazione di un disco club se non vedi video di qualcuno che lo suona. Quindi quel mercato lì è diventato un po', bisogna un po' inventarlo, cioè nel senso. Invece ho cambiato la produzione nel pop, questo sì, nelle canzoni, nelle stesure di Spotify, ho imparato a capire i minutaggi di Spotify, soprattutto i primi minuti di una canzone sono fondamentali, rispetto a una stesura club, che comunque i primi sono un po' groove, adesso invece su Spotify in dieci secondi deve esserci già chiaro il pezzo, quindi su questo discorso qui. Su quello che ho visto i miei colleghi, mi piace tanto lo discorso del live streaming, che ha preso, io non ho mai considerato il DJ televisivo, cioè nell'arco degli anni non sono mai riuscito a vedere un programma con DJ in televisione. In questi due anni sì, ho visto il lavoro che ha fatto Giotto Vannelli, per quanto riguarda in Italia, che è stato un lavoro strepitoso sui live, e anche i live che sono stati fatti in streaming con le luci, bello, mi piace, quello mi piace tantissimo, quello mi è piaciuto tantissimo, i posti, questa cosa qui che è venuta fuori dello streaming live non pensavo, e invece io ne ho fatto uno solo, però ho visto il livello e si è alzato parecchio. Senti, qua ci si riallaccia a questo punto a quello che è un po' il presente, il recente passato e poi l'imminente futuro, quello forse proprio più vicino, e in questo caso io andrei a prendere in considerazione per esempio il K-Future Festival, che è stato proprio annunciato da una manciata di ore. cosa sta facendo Torino? Cosa sta facendo un certo tipo di area settentrionale dell'Italia? Come si stanno muovendo le cose? Secondo te abbiamo imparato qualcosa? Stiamo ignorando tutto? Che succede? Io ti parlo per Torino perché io vivo a Torino, quindi la vivo in modo diverso. Torino secondo me come premessa è stata fortunata negli anni passati per aver avuto la Ryanair, sembra una cosa, un collegamento ma adesso arrivo. Ci sono stati gli anni che comunque la Ryanair tu potevi andare da Torino a Londra veramente con 50 euro, quindi tantissimi torinesi della mia età hanno vissuto la loro gioventù, andando a Londra come adesso si va a Milano con il Freccia Rossa. Quindi la percezione della musica su Torino, grazie a questa cosa qui, secondo mio parere personale, su chi vive a Torino è molto più alta a livello internazionale e lo si vede anche dalla percezione che hanno questi festival, come il K che è organizzato, vabbè, festival più importante, però la percezione che ha a Torino di fronte a queste cose secondo me è più alta perché non ha mai avuto affluenza da Milano, Bologna, eccetera, perché a Torino non ci devi venire, non è che ci passi come ci passi da Milano, da Bologna, quindi tutto ciò che nasce qui è puro, quindi è chiuso, lo si vede anche dagli artisti Picotto, Subsonica, Gigi, Eiffel, comunque sono tutte produzioni che a Torino prima i dischi di Gigi sono diventati famosi o i dischi di Gabri o poi dopo sono andati al resto, quindi Torino ha una percezione della musica, secondo me, molto alta, per la cultura soprattutto, non per la musica, per la cultura in generale Torino è molto, io la parago a Bologna, un po' nascosta però. Sì, effettivamente Torino è proprio la, probabilmente ha preso il lato industriale di se stessa e lo ha messo al servizio di quello che è il sistema, cosa che magari Milano non fa perché è troppo abituata al bene, cioè è troppo abituata a certi livelli, le agenzie di moda, tutte le radio. Al bello, al bello. Bologna a volte si siede su se stessa perché c'è questo concetto ancora un po' di Bologna la grassa, Bologna quella un po' di sinistra, c'è ancora un po' una situazione così, però Bologna fa tantissimo, anche se poi si sta riprendendo Roma e tante altre città. Però Torino, e poi alla fine gira e rigira, dove hanno suonato i Daft Punk, dove nascono le cose più strane, tipo i Murazzi, tipo il concetto anche stesso del Piemonte, cosa hanno fatto la Mezcal, cosa hanno fatto Piemonte Groove, che è una cosa che non esiste più, però a me gli spiace tanto. Però era una bellissima idea quella di... Spallacci, Roberto Spallacci è stato... Spallacci, esatto. Lui ha dato grande mano, sta dando ancora adesso alla cultura Torino, ma è quella cultura pura. Quindi, cioè, Torino, boh, io la vedo come città, se nel senso siamo distaccati dal... Ma anche dalle mode, dalle mode, perché anche negli anni 90, quando nel mondo andava, dicevo, io avevo fatto Blisteam, comunque andavano i pezzi, quella della prima dance commerciale, tutti i locali a Torino suonavano, ma i locali commerciali anche, quelli dove c'andava gente grande, ai tempi che adesso... Comunque suonavano i pezzi di Gigi, suonavano i Daft Punk, roba che arrivava dall'Ultimo Impero. Quindi era proprio una cultura che poi... La Mediterranean Progressive, poi... Certo. Bortolotti l'ha trasportata in tutto il mondo. Gira, rigira, si torna lì. Eh, lì c'è visto lungo. Gira, rigira, poi si torna a quelli che io li ho vissuti in prima persona, erano poi duelli finto amicali tra Gianfranco e Gabutti, no? Perché poi alla fine poco, ma qualcosa l'ho affettato in Blisco. Senti, cos'è rimasto di Blisco? Cos'è rimasto di quei rapporti? A me dispiace molto quello che è successo tra Gabri e Mauri e Jeffrey, però io che ho sempre creduto nella squadra, nel gioco di squadra, soprattutto come tu hai indicato prima, proprio anche il sistema media record, ma non solo quello, ti dimostra, e questo anche all'estero, dagli Svedi South Mafia, tantissime altre attività, che il gioco di squadra rende. Vedere queste squadre che si allontanano, che si smembrano, non fa un po', non porta un po' di amarezza, un po' anche di riflessione su quello che è il modo di affrontare le cose da parte degli italiani. Ma sai, ogni cosa è a sé, secondo me, ogni rapporto è a sé. Io credo che la storia degli Eiffel, la storia di Gabri, sia una storia romantica, tutto sommato, perché comunque hanno creato la canzone forse più significativa italiana negli ultimi anni, dopo Volare, eccetera, perché Blu è da considerare così, e nello stesso tempo si è creato un DJ come Gabri, che è un grandissimo imprenditore, io credo che nessuna delle due cose, senza l'altra, senza gli Eiffel, senza Gabri, non sarebbero stati gli Eiffel, e Gabri senza Eiffel non sarebbe stato Gabri. Quindi è una storia che è romantica così, doveva andare così. Ma non penso che sia un grosso problema, perché le due carriere vanno avanti e magari un domani si faranno una reunion, magari quando hanno 60 anni, sai quelle cose, tipo i cugini di Campania, facciamo i cugini di Torino. Però io non la vedo come una cosa brutta o drammatica, la vedo come una cosa fisiologica, che doveva andare così per varie esperienze e culture che i vari singoli hanno. Però secondo me quello che si è creato in quegli anni lì, c'è da esserne fieri. Poi arriviamo tutti da, cioè Maurizio abita a pochi passi da casa mia, a Gabri, quindi secondo me da dove arriviamo noi, dalle campagne torinesi, è già un grandissimo risultato, quello che siamo riusciti a ottenere con la Blitz, Eiffel, il Blitz Team, il Da Blitz, tutto quello che è. E poi sono 30 anni, quindi va bene, poi la vittoria più grande è vivere di musica ormai, secondo me, non è tanto successo. Assolutamente. Senti, sono passati quasi un anno e mezzo, quasi due anni, da un'intervista che ho fatto proprio all'interno di una scuola a Molella, che diceva che tra Big Room, EDM, Progressive House, c'era un po' un vuoto nel mondo della dance pura. È vero questo? Non è vero? Si è respirato parecchia dance durante Sanremo, magari con pezzi stile d'argento amico e vicinanze, e quindi c'è una voglia di dance classica, molto italiana, oppure sono pippe mentali e le canzoni poi alla fine uno le può vestire come vuole. Esatto, l'ultima cosa è quello, c'è la dance secondo me, ormai è diventata, non se ne parla più perché è diventata, cioè io ne sento la dance su tutti i pezzi, sul pop, ovunque, c'è questa chiave da Moroder in poi, questa chiave qui, è in tutti i pezzi, poi se la vogliamo chiamare dance perché quella che ha la cassa più fuori, però il passo che hanno tanti pezzi da Lady Gaga ha anche tanti gruppi, adesso non vorrei dire cazzate, quindi comunque c'è il passo dance, si trova sempre il passo dance e già questa è stata la vittoria più grande, spoderare il rock un pochettino dai pezzi pop, adesso sta tornando, per carità, grazie a Manesco, però il ritmo dance secondo me ormai è diventato un ritmo comune, comunque non è che manca, c'è dentro qualunque tipo di produzione, un pezzo può nascere dance proprio, cioè nella concezione di che compone c'è anche la dance ormai, come prima, come c'è di pop, reggaeton, eccetera. Senti, ho ascoltato con estrema attenzione la puntata che mi ha inviato che praticamente ripercorre quello che sono i maggiori successi non solo dance ma anche pop in una chiave molto più raffinata, molto più chill, molto più lounge, molto più ambient, comunque molto più d'ascolto, meno danzereccia. Come nasce questa cosa? È solo un dire ok, io ho tanta roba da dire sopra con dei bei bianchi e ci faccio un bel tappeto sonoro originale sotto o c'è qualcosa di premeditato dietro? No, nel senso il programma di radio io ci ho dedicato tantissimo tempo, è un progetto da cui ci ho dedicato energia, tempo e denaro e quindi io ho oltre mille puntate di questo programma che ho fatto su M2O, mille puntate inedite, tutte storie scritte, quindi trovare una chiave e ce l'ho sull'hard disk perché adesso quando è stato quel cambio di M2O non ci sono più i reload e tutte le puntate, quindi adesso io quelle puntate lì ho mille puntate in un hard disk, ho provato a caricarle su YouTube ma usando pezzi degli altri spesso me li tirano giù e quindi io sto cercando un modo, questo qui è un artista che ha fatto tutti quei remix in chiave chill out che io conosco il suo editore e quindi abbiamo fatto questa prova qui in dare una forma chill out al programma per poterle caricare tutte queste storie su YouTube e dare un modo perché comunque su YouTube ascoltare Troppo Dance come li facevo prima Tecno era un modo più che altro per riuscire a passare quei dischi in radio a una certa ora e mettere i parlati. In chiave invece su YouTube come voglio mettere tutte le storie invece così mi sembrava un po' dura e quindi ci sto cercando una chiave un po' diversa per proporre il programma anche alle radio eventualmente oppure proporlo come come podcast e queste cose qui queste mille puntate e mi serviva comunque avere una chiave dove potessi avere tanta musica e il chill out noi italiani siamo forse i più bravi a farlo e quindi volevo fare questi mixati chill out con all'interno tutte queste storie la prima era Amy che avevo fatto per Radio Peter Pan che dovevamo fare un salario Peter Pan Senti prendi rimolla rimodella la musica non la dance ma la musica in generale è proprio questo rimettere in discussione le cose rivestirle rispogliarle dietro a questa tua logica comunque di vedere in una chiave molto raffinata certi successi del passato potrebbe essere rimessa in discussione con una serie di attività legate per esempio a dei remix cioè di vedere magari in chiave maggiormente elettronica non dico dance perché sarebbe un ritorno troppo esplicito però magari in chiavi differenti perché è sempre interessante l'altro giorno io riascoltavo Satisfaction rifatta da cos'era Who Made Who adesso mi ricordo un gruppo rock rifatto da Satisfaction di Benassi era meravigliosa perché è risuonata con le chitarre e tutto era qualcosa di estremamente eccezionale cosa si può sviluppare da quello che tu stai già facendo sì secondo me sì ogni pezzo può avere diversi vestiti alcuni pezzi devi farli meglio nel senso possono essere migliorati altri possono essere peggiorati dipende dal pezzo le melodie in quella puntata lì le melodie anni 90 progressi di quelle lì in quella chiave lì rendono rendono bene però ci sono tanti pezzi come detto Satisfaction Rock l'hanno fatta mi sa ed è molto bella ma perché è bello proprio è bella la parte di Satisfaction quindi in chiave rock ci sta dipende dal pezzo ho sentito tanti pezzi remixati che le hanno peggiorati pezzi che secondo me sono alcuni pezzi che sono irremixabili tipo la molto giù si può remixare in diversi modi bla bla no per esempio facendo due bla bla non puoi remixarlo un chiave chill out c'è c'è un loop ti ritogli quel groove gli togli rimane così Satisfaction è un altro farlo rock è un rischio è venuto però in chiave dance Satisfaction io non ho mai sentito un remix di Satisfaction cioè nel senso in chiave dance che abbia senso come il suo anche se perché gli cambi la compressione di Satisfaction cambia tutto sono quei quadri che devono rimanere così assolutamente senti una cosa da prendere in considerazione è quelli che stanno i media che stanno cambiando i giornali le radio anche le piattaforme blog cioè cosa cosa sta accadendo come si fa a dare valore alle cose e prendere delle strade alternative cioè se una M2O è andata in una direzione e uno invece va in un'altra direzione un singolo individuo un artista o un creatore come li chiamano in America adesso un creator va in una direzione cosa fare forzatamente unire le cose ognuno effettivamente va a farsi un proprio percorso cosa fare oggi come come riorganizzarsi secondo me bisogna bisogna il mio parere è una decentralizzazione delle cose perché adesso è tutto centralizzato Facebook tu fai materiale per Facebook per Youtube eccetera per un domani Facebook ti dice chiudi sparisce il canale tutti i tuoi contenuti spariscono e questa è una cosa che andava bene tanti anni fa secondo me perché noi nella generazione di 90 abbiamo tutto avuto vergine davanti il web quindi era tutto libero e quindi per noi Facebook era al massimo riuscire oggi io vorrei avere una libertà come artista di non dipendere da Facebook o da Instagram o da queste piattaforme che sono tre industrie che comandano tutto il mercato adesso e quindi se un domani Facebook o Instagram decide che o Spotify decide che non ci sei più perché non vendi tu sparisci come già adesso come su Bitport eccetera se non fai determinati numeri scompari cioè ti tolgono e non esisti più quindi una tua produzione non esiste più e questo è un problema secondo me vorrei un web diverso un web punto tre dove io ho il mio Facebook ovviamente sarà tutto difficile da controllare per bullismo queste cose qui però è una cosa che secondo me è arrivare che io da qui non ho bisogno né di Spotify né di Facebook niente io pubblico il mio pezzo tu te lo compri se ti piace e io ho i miei diritti basta questo è quello di cui tu parli è un po' l'accorciarsi della filiera io come te come Paolo abbiamo vissuto il classico iter dove la filiera era molto ampia c'era la casa di produzione i promoter e poi c'era il distributore di vinile e il negozio adesso tutto quello che sta in mezzo sta un po' scomparendo probabile che magari anche le case discografiche potranno scomparire e diventare magari delle agenzie di servizi più che di altro ma scomparendo la parte centrale della filiera cosa succederà cioè quello che è successo con Nasta il fan base e basta questo è il rapporto diretto e tutto il resto è companatico secondo me sì cioè nel senso ci sarà un filtro su questa cosa qui perché tanti artisti sono frutto cioè il marketing supera l'artista tante volte troppe volte quindi quindi questo sì porta un grande vantaggio ma porta una delusione poi di fronte al pubblico perché a un certo punto l'artista anche costruito col marketing si dovrà confrontare con un pubblico cioè Alan Walker non fa il Tumor Lunar si fa i suoi concerti e chi vuole lo va a vedere i suoi concerti questo è un primo passo di decentralizzazione che secondo me all'inizio è dura devi avere un grande potere una cosa che Gigi fa da anni per esempio confrontando e quindi io spero soprattutto adesso io ho 50 anni quindi non è che però spero soprattutto su chi inizia a fare sto lavoro adesso che ha 18 anni che questa cosa possa godere della decentralizzazione del potere soprattutto perché tanti artisti hanno avuto tante possibilità ma tanti non riescono a averle per questa cosa qui e lo si vede che una volta i dischi li sentivamo da Radio DJ il DJ Time io era il mio più grande fornitore di nuove idee di ascoltare nuovi dischi oggi è TikTok io i dischi più belli li trovo su TikTok perché ci sono questi ragazzini che mettono dei pezzi fantastici che io sono in continuazione con Charles Arm avessi il programma radio li mettei tutti il discorso legato invece all'età tu prima hai parlato della tua età cosa succede la carriera di un DJ di un produttore chi sta comunque davanti alle quinte ma anche dietro alle quinte è diversa è un po' più lunga di un calciatore vedi prevedi cuffie attaccate al chiodo prevedi cambi magari radicali a livello di tuo di tuo ruolo di tue mansioni sogni cos'è che c'è dentro nella testa di Roberto Molinaro cosa frugge la produzione è la costante quindi io una cosa che proprio sento il bisogno è quello di produrre fare cose belle e brutte che spesso mi vengono cose brutte poi sono diventato da un po' questi due anni sto diventando anche autore editore quindi di molti molti brani o produttori e questo mi piace tantissimo perché riesco a gestire una produzione dove non ci metto il nome o dove non sono coinvolto emotivamente è molto più semplice che gestire un'uscita d'artista quindi questa posizione sarà l'età mi piace mi piace è un fatto di ego anche? come? è un fatto anche di ego? ma sì ma è un fatto soprattutto di dare un senso alle produzioni perché l'incubo più grande secondo me quando produce è avere i pezzi sull'artista che non escono quindi a un certo punto anche quando anche quando hai in età dici che hai 50 anni comunque per avere il disco lì fermo a me va bene anche che esca in qualunque forma in qualunque modo perché è una cosa comunque che a me ha sempre appagato io ho sempre fatto dischi per altri dove non ci ho messo il nome mi ha sempre appagato il fatto di avere una produzione che tu ci hai dedicato tempo che si concretizza perché per tanti pezzi ci dedichi tantissimo tempo e poi rimangono lì sull'artista ed è terribile secondo me lavorare così quindi anche il fatto che si concretizzano anche bene a me basta come DJ penso che continuerò sempre a farlo sempre serate con dignità ovviamente però quella è anche un'altra cosa che è strettamente legata alla produzione è ovvio che l'età secondo me è un fattore per quanto tu possa essere bravo ci sono comunque quel mercato vuole ragazzi gente giovane gente fresca e comunque per uno di una certa età comunque devi già avere o un bel background o comunque essere di un certo livello per cambiano le cose cambiano cioè la qualità deve essere diversa anche non è che andare a suonare un festival allora ti appaga perché comunque se vai a suonare in un festival a 50 anni vai a suonare alle 9 di sera è diverso che lo puoi fare a 12 anni scusa a 18 anni almeno adesso stavo proprio dando un occhio ai tuoi social e c'è un un così o comunque una voglia comunque di uscire con dei brani perché alla fine è probabile che sia un ehi Roby ma facciamo una cosa così dai ok guarda che c'è la vuole la spinning ah beh dai ma sì dai funziona così o c'è una sì anzi una fame pazzesca come poteva esserci 10 20 25 anni fa c'è una fame diversa comunque anche facendo un disco che potenzialmente sulla carta che poi non è mai così quando lo vedi una hit c'è ragioni cioè almeno io ragiono in modo diverso adesso devi comunque se poi si concretizza questa hit devi essere in grado di poterna capitalizzare anche con le serate e con la tua immagine e con la tua età quindi adesso che è un pezzo davanti ovviamente non è più su esco come Roberto Molinar via ma inizi a valutare diverse cose perché comunque puoi penalizzare anche la produzione con il tuo nome sopra quindi nell'arco degli anni ho visto tanti pezzi penalizzati e quindi ragioni in modo diverso ragioni in modo diverso e comunque boh io poi sai che noi siamo nati in un mercato musicale che non esisteva quindi già solo vivere di musica io ripeto è una vittoria quindi va bene continuerò a fare il DJ continuerò a suonare le mie cose però continuerò a produrre quello sì fantastico se ti volevo concludere con un discorso legato un po' il tuo il tuo calendario prossimo adesso al di là della ripresa delle attività con le discoteche che si parla adesso di dall'undici di febbraio in poi da tanti annunci che sono stati fatti in merito a festival serate in discoteca e tutto cosa cosa porteranno i prossimi mesi firmati Roberto Molinaro proprio a livello di discografia di nuove attività adesso la butto lì NFT siti nuovi programmi e contenitori nuovi cosa ci sarà di bello prossimamente niente nel senso io sui progetti adesso ho un mio progetto live che faccio una cosa molto semplice comunque un aspetto di show che fai nei locali più piccolini dove puoi troppo i permettere vabbè quello l'ho sempre fatto e quindi andrò avanti con quel sistema lì quindi video a tempo e queste cose qua che è una cosa ormai che è standard del resto non lo so perché comunque non so cosa trovo a me la mia paura che il mercato musicale italiano sicuramente Medusa Gabri Gigi comunque sta andando molto bene il mercato dei club le discoteche club mi spaventa un po' perché mi sembra di essere tornato agli inizi degli anni 90 dove c'era solo criminalità nei locali e quindi ho paura che i club con le difficoltà economiche ci ritroveremo di nuovo ad affrontare un periodo così quindi club gestiti male senza sicurezza quindi io ho fatto una serata all'inizio di ottobre subito dopo la pandemia che era una situazione dove ci erano già andato per altri anni era sempre stato molto bello in quell'occasione lì ho trovato una gestione molto precaria della cosa e comunque ho visto che le problematiche dei locali verranno fuori in questi mesi quindi preferisco non fare progetti perché non so cosa non so è come un dopo un bombardamento i locali non so cosa troveremo certo vabbè dalle macerie poi qualcosa bisogna per forza pure stare fermi non è che ah no certo ma la mia paura è che i ravi illegali cioè nel senso perché io con nipoti eccetera che comunque sta tornando questa cosa dei ravi illegali dove ne fanno in mezzo i campi senza nessun controllo e se riesplode questa cosa qui abbiamo perso dieci anni di lavoro per rendere il club siamo riusciti la nostra generazione a portarlo in un certo livello vedi K rifar partire i ravi illegali senza controllo sarebbe una grande sconfitta certo certo Roby veramente è stata una chiacchierata veramente interessante io spero veramente di condividere con te un caffè come abbiamo fatto a Torino l'altra volta volentieri quando vuoi sai che io sono un po' associato scusa la latitanza ma ci sono state veramente delle situazioni veramente radicali negli ultimi anni quindi a parte quello che è successo a tutti ma insomma poi le cose insomma sono effettivamente coinvolgenti grazie veramente tanto di essere stato con noi grazie a te un abbraccio ciao ciao fantastico veramente persona squisita intelligente fa parte dell'elenco Paolo 10 DJ da intervistare in Italia perché sono quelli rari con cui poter discutere di tutto io direi che possiamo tranquillamente invece annunciare quello che è l'ospite di settimana prossima Lino Nigro ha una scuola molto completamente in espansione espansione sul lato regionale in Puglia molto probabilmente ci saranno delle delle attività molto interessanti durante l'estate possiamo dire cosa ma non con chi ci saranno delle attività in spiaggia ci sarà una scuola in spiaggia forse è una cosa abbastanza rara trovare dei camp di formazione legati alla musica elettronica in spiaggia è una cosa che è veramente interessante con degli approfondimenti in studio e Lino Nigro è il massimo referente di questa scuola ne parleremo con lui di tutte queste attività che sono già iniziate da anni e che si svilupperanno attraverso quello che è un nuovo collettivo che verrà presentato alla fine di questo mese che è Obiettivo DJ Producer che racchiude esibirsi punto it mi dance convention DJ Audiocop e Seals quindi una bella squadrona e quindi verranno fuori delle cose interessanti perché comunque è uno spaccato di un'area italiana il meridione che è sempre molto attenta e assetata su quello che sono le novità perché effettivamente la parte centrale la parte settentrionale dell'Italia è un po' abituata bene un po' come Milano rispetto a tante altre città quindi siccome c'è molta carica lo si è avvertito con Midenza Tropea ma lo si avverte anche quando si va negli studi di registrazione come quello di Callea in Sicilia o quello di Angemi che sta aprendo adesso a Catania insomma sono tantissime cose interessanti quindi secondo me la chiacchierata con Lino Nigro settimana prossima sarà veramente interessante soprattutto per il discorso formativo anche perché Paolo ha una splendida scuola per DJ producer di formazione di musica e non solo elettronica ma di musica in generale e alla fine possono arrivare delle indicazioni non su come si fa una scuola perché ognuno la fa a suo modo la interpreta a suo modo ma che segnali arrivano dal settore delle scuole e quindi da quelle che sono i settori comparti che si occupano di formare quelli che saranno i nuovi DJ i nuovi artisti i nuovi musicisti insomma tutti quelli che saranno i prossimi addetti ai lavori quindi chiacchierata lunga con Lino Nigro martedì alle 17.30 sempre con iPad Music Talk sempre su Facebook YouTube e Twitch quindi io direi che è stata una bella puntata interessante Paolo e niente grazie a tutti e altissimo mi raccomando approdate sui nostri canali Telegram sui nostri podcast e se volete come l'avete vista anche prima una bella news fresca fresca del K Future Festival di Torino ma poi ci si parla anche sempre su hype hype punto biz di Mir di Rimini dove ovviamente hype hype ci sarà seguiteci seguiteci perché le piattaforme e i nostri canali sono sempre aggiornati in tempo reale grazie veramente a tutti e a questo punto diamo appuntamento a settimana prossima sempre con Hypa Hypa Music Talk ciao a tutti grazie ciao Musica 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 Musica